... Dal 6 gennaio la prima fase della campagna di vaccinazione, lo ha detto il governatore in consiglio regionale, intanto indice RTA 1 e 18, 68 nuovi positivi, ancora decessi e 16 i guariti. Carenza di personale nella sanità, unanimità sulle emozioni del Movimento 5 Stelle, nuove assunzioni di medici e potenziamento del servizio di guardia medica, le materie toccate, maggioranze e opposizioni votano insieme, 50 milioni intanto per affalti, per la manutenzione degli ospedali. Furbetti del reddito di cittadinanza, truffa per 100 mila euro, è stata scoperta dalla guardia di finanza di Larino, una decina di persone che percepivano il beneficio senza averne requisiti, l'Inps ha attivato le procedure per il recupero delle somme. Isernia si insedia, il nuovo vicario della questura è Rosa De Gregorio, il dirigente alla guida degli agenti di Isernia, si è presentata alla stampa in occasione dell'illustrazione del calendario 2021. Calcio a 5, Cus Molise torna in campo a gennaio, rinviata la trasferta di Capurso, ultima gara del 2020, se i recuperi non verranno fissati in questi giorni, la squadra di A2 giocherà solo nel nuovo anno. Buon pomeriggio e benvenuti all'edizione delle 14 del nostro telegiornale in apertura. Parliamo di sanità in consiglio regionale. Passano all'unanimità due mozioni a presentarle il Movimento 5 Stelle, nuove assunzioni di personale medico e paramedico e potenziamento del servizio di guardia medica. Queste le materie toccate, snodi fondamentali del sistema sanitario, specie nella fase emergenziale in corso. Sentiamo allora Pasquale Di Bello, che è in collegamento dal consiglio regionale, con lui c'è il portavoce del Movimento 5 Stelle, Angelo Primiani. A te la linea Pasquale. Sì Tonino, grazie. Come hai ricordato tu da studio, ieri in consiglio regionale sono state approvate due importanti mozioni a maggioranza, entrambe presentate dal Movimento 5 Stelle. La prima riguarda il potenziamento del personale medico e paramedico, la seconda invece il rafforzamento della medicina territoriale, quindi delle ex guardie mediche. Allora consigliere Primiani, parliamo del personale medico e paramedico. Cosa avete chiesto? Sì, ieri in consiglio regionale è arrivata in discussione una nostra mozione sul potenziamento del personale medico datata dicembre 2019, quindi in una fase preliminare precedente alla pandemia chiedevamo di potenziare il personale medico, lo chiedevamo anche alla luce del fatto che in questa regione a causa del commissariamento della sanità venivamo fuori da dieci anni di blocco del turnover, blocco del turnover che ha impedito all'azienda sanitaria di assumere nuovo personale medico, quindi ci sembrava opportuno e urgente già a dicembre 2019 provvedere ad aumentare le assunzioni soprattutto del personale medico, mi riferisco agli anestesisti, ma anche dei primari perché ad oggi, a tuttora, numerosi reparti sono ancora sprovvisti dei primari, quindi sono ancora sprovvisti dei ruoli apicali. Questo lo facevamo a dicembre, purtroppo la mozione è arrivata in discussione solo ieri, è stata approvata, questa è la magra consolazione, è stata approvata all'unanimità, ora l'auspicio è che il Presidente Toma dia seguito all'impegno, all'indirizzo politico che ha ricevuto dal Consiglio regionale. Ecco, l'altra mozione invece è una mozione che possiamo considerare di appoggio ma altrettanto importante, riguarda il potenziamento della medicina territoriale, quindi delle ex guardie mediche, anche qui in questo caso cosa avete chiesto? La pandemia diciamo che ha portato tanti nodi al pettine, anche questa è datata dicembre 2019 e anche in questa mozione chiedevamo di potenziare la rete territoriale, oggi è sotto gli occhi di tutti che potenziando la rete territoriale si potrebbero evitare numerose ospedalizzazioni, si potrebbe curare sul territorio tanti cittadini evitando che poi questi finiscano negli ospedali. Era quello che chiedevamo a dicembre 2019, lo chiedevamo attraverso il potenziamento delle guardie mediche, mettendo nelle condizioni le guardie mediche di poter operare sul territorio, quindi dotandole di locali adeguati ma soprattutto implementando il tanto famoso e il tanto sbandierato sistema di telemedicina. Pensate che già all'epoca noi chiedevamo di dotare le guardie mediche di dispositivi in grado di tracciare e misurare tutta una serie di parametri vitali nei pazienti. Oggi questo in piena pandemia risulta vitale. Anche questa mozione è stata approvata all'unanimità e c'è da dire meglio tardi che mai anche qui l'auspicio è che il Presidente Toma dia seguito all'indirizzo del Consiglio regionale. Bene Tonino, ricordiamo questi due atti importanti, due mozioni, una che potenzia il personale medico e paramedico, l'altro la medicina territoriale. Da Palazzo Daimmo è tutto, a te la linea. Grazie, grazie Pasquale, grazie anche al tuo ospite, ad Angelo Prignani. Torneremo poi a parlare di Consiglio regionale, intanto andiamo avanti con il telegiornale. Le organizzazioni sindacali continuano a manifestare il proprio dissenso contro la gestione sanitaria in Molise, soprattutto in questo momento di pandemia dopo gli ospedali di Termoli, Campobasso e Isernia. Questa mattina si sono ritrovate davanti al vietri di Larino, ribadita la carenza di personale sanitario in ambito regionale e la necessità di nuove assunzioni, evidenziati ancora una volta i turni massacranti degli operatori. Pongono l'attenzione anche sulla sicurezza delle modalità di assistenza ai pazienti, chiesto anche il potenziamento del vietri. Queste proteste sono conseguenti alla proclamazione dello stato di agitazione di tutto il personale sanitario che rimane permanente. Alcuni cittadini organizzati in rete chiedono le dimissioni di Toma, con loro Andrea Di Paolo e Dilma Baldassarre, alcune decine di manifestanti, tra i quali era presente anche un rappresentante del comitato dei familiari delle vittime da Covid. In Molise hanno contestato il governatore. Ieri davanti la sede della giunta regionale puntano il dito contro la gestione della sanità e dell'emergenza Covid. E ancora Covid in Molise in arrivo 9.294 dosi di vaccino, lo ha detto Toma. Il governatore in consiglio regionale la campagna vaccinale al Via il 6 gennaio. Sentiamo. Nella prima fase della campagna vaccinale al Molise saranno assegnate 11.000 dosi e ne arriveranno in regione 9.294. Lo ha comunicato in consiglio regionale il governatore Toma, spiegando che il tutto è stato stabilito sulla base della ripartizione svolta a livello centrale, considerando la percentuale delle persone che effettivamente accetteranno di vaccinarsi secondo le priorità definite, cioè sanitari e persone fragili. Come si sa, le strutture per la conservazione sono a Campobasso e Isernia. E Toma ha dichiarato in aula che le varie dosi dovrebbero arrivare in Molise tra il 25 e il 31 dicembre. Prima, infatti, ha continuato, si prevede il 21 dicembre, l'Agenzia Europea per il Farmaco, EMA, dovrebbe validare il vaccino messo a punto dalla Pfizer, autorizzazione a cui dovrebbe fare seguito in pochi giorni la validazione dell'omologa agenzia italiana, l'AIFA. Acquisiti necessari via libera, ha aggiunto Toma, potrà iniziare la distribuzione sul territorio nazionale delle dosi. Dal 6 gennaio è previsto l'inizio della prima fase della campagna vaccinale anche in Molise, con una prima somministrazione ai soggetti individuati, alla quale ne dovrà seguire una seconda entro 19-23 giorni per rendere completamente efficace la vaccinazione. Toma ha infine evidenziato che per gestire al meglio le varie fasi bisognerà avvalersi anche di volontari, non solo medici e infermieri, ma pure personale amministrativo e verranno coinvolti i sindaci. Sui luoghi dove verranno effettuati i vaccini si sta ragionando, considerando i centri maggiori e la distribuzione di essi sul territorio per garantire il raggiungimento ottimale e la sicurezza. Adesso vediamo nel dettaglio i dati dell'ultimo bollettino Covid in Molise, quale la situazione è ancora decessi. Ci sono 68 nuovi positivi, ma anche 16 guariti. L'RT è a 1,18. Sentiamo Anna Maria Di Matteo. Le restrizioni introdotte dalla regione una decina di giorni fa per contenere il contagio da Covid sembrano dare i primi risultati. Dall'ultimo monitoraggio effettuato in queste ore, infatti, l'indice RT, quello che indica la contagiosità, da 1,45 è scesa a 1,18, a darne conferma il presidente della regione Toma. Anche la curva dei contagi sembra appiattirsi, anche se i numeri restano ancora molto preoccupanti, soprattutto quelli legati ai decessi. Infatti, l'ultimo bollettino dell'ASREM parla di altre vittime. Sono quattro le persone che hanno perso la vita a causa del coronavirus. Si tratta di una 85enne di Sant'Angelo Limosano e di un uomo di 67 anni di Pesco Lanciano, entrambi ricoverati in malattie infettive. E poi ci sono due decessi avvenuti nei giorni scorsi, ma comunicati all'ASREM solo nelle ultime ore. Si tratta di una donna di Fornelli, morta nella sua abitazione il 9 novembre, e di una novantenne ospite della casa di riposo di Vinchiaturo, receduta il 25 novembre. Quanto ai tamponi, ne sono stati processati 842, dai quali sono emersi 68 nuovi positivi, con un tasso di positività dell'8%. Il maggior numero è stato riscontrato a Termoli, con 14 nuovi casi. Seguono Petaccetto e San Giuliano di Puglia con 7, Campobasso con 6. Negli altri 21 comuni, i casi compresi tra 1 e 3 nuovi positivi. Due nuovi ricoveri in malattie infettive, ma ci sono anche 16 guariti. Gli attualmente positivi sono 2.780, gli asintomatici a domicilio 2.647, mentre le persone ricoverate a Cardarelli sono 68, di cui 58 in malattie infettive e 10 in terapia intensiva. I deceduti dall'inizio della pandemia sono 172, mentre le persone che hanno sconfitto il virus sono ben 2.898. Didattica a distanza e scuole, dunque chiuse a Mafalda, il sindaco Giacomo Matassa, dato il rischio di un possibile sviluppo di nuovi contagi sul territorio comunale, ha disposto la chiusura del plesso scolastico del paese con sospensione delle attività didattiche in presenza da oggi fino al 6 gennaio. 50 milioni per 5 anni si tratta dell'appalto per la manutenzione di ospedali e strutture sanitarie della regione, affidato dall'ASRE, ma una multinazionale francese. Chiaramente tutte le ditte molisane che fino ad oggi garantivano i servizi di manutenzione sono fuori, un danno abbastanza pesante per l'economia regionale. Sentiamo Enzo Di Gaetano. Nuovo appalto per la manutenzione di ospedali, ambulatori e consultori della sanità pubblica molisana. Circa 50 milioni per 5 anni che per la prima volta vanno fuori dal Molise, tagliando fuori diverse ditte locali di Campobasso, Isegne e Termoli che vivevano di questo lavoro. L'appalto è stato aggiudicato dalla Consip alla francese Syram Veolia. Tutto è stato deciso a livelli romani dove la centrale unica di committenza della Consip gestisce gli appalti per le aziende pubbliche. Il provvedimento estromette a partire dal prossimo 21 dicembre una decina di aziende del Molise che lo hanno saputo meno di una settimana fa. La vicenda parte dal 2018 quando scadono i termini della procedura aperta per l'affidamento della gestione integrata e manutenzione delle strutture edili e degli impianti tecnologici ubicati presso i presidi ospedalieri e i poli ambulatori dell'azienda sanitaria regionale del Molise bandita dalla centrale unica di committenza. Varie le ditte, locali e non, che parteciparono al bando che tuttavia si bloccò e non arrivò mai ad essere assegnato nelle more l'ASREM ha proceduto in proroga con le varie imprese molisane che si sono occupate della manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere civili e degli impianti tecnologici di ospedali e poli ambulatori. Florenzano riprende in mano la questione, la sblocca e fa ripartire la procedura perché, come si legge nella sua delibera, è necessario provvedere all'adesione alle convenzioni in essere delle centrali regionali e nazionali di acquisto per l'erogazione di una serie di forniture e servizi tra cui anche quelli di manutenzione ospedaliera. Non solo, è fatto obbligo, si legge sempre nel documento del direttore generale agli enti del Servizio Sanitario Nazionale di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a. Mentre la mancata adesione alle stesse e la conseguente emissione di ordini di fornitura a prezzi maggiori comporta danno erariale direttamente imputabile al responsabile. Insomma, Florenzano non poteva fare altrimenti. ora l'unica speranza di difendere il proprio posto di lavoro per le decine e decine di dipendenti delle ditte molisane che curavano la manutenzione è quella che il nuovo gestore applichi la continuità mantenendoli in vita grazie anche all'esperienza maturata. Ma qui tocca ai sindacati darsi da fare e farsi ascoltare. La cronaca adesso percepivano senza averne i requisiti il reddito di cittadinanza. Dieci persone di Pietracatella scovate dalla Guardia di Finanza di Larino. Intanto l'Inps ha attivato la procedura di recupero delle somme per un totale di circa 100.000 euro. Sentiamo Andrea Nasillo. Dieci persone di Pietracatella hanno percepito senza requisiti il reddito di cittadinanza. Tra loro anche un imprenditore che nonostante i 49.000 euro di reddito di impresa aveva dichiarato all'Inps un importo pari a zero. Sono stati scoperti e denunciati dai finanzieri di Larino. Tutti gli indagati pur di ottenere il beneficio previsto dal governo Conte hanno certificato stando alla ricostruzione degli investigatori qualità proprie o dei familiari false. La maggior parte ha omesso di dichiarare patrimoni immobiliari e redditi che non avrebbero permesso di ottenere il contributo assistenziale. Durante l'indagine di polizia giudiziaria ed economico-finanziaria coordinata dalla Procura della Repubblica di Larino e portata a termine dalla locale tenenza della Guardia di Finanza numerosi sono stati gli appostamenti e i sopralluoghi che hanno permesso di raccogliere elementi utili all'inchiesta. Il contributo finora incassato è stato sospeso e ora l'Inps ha attivato le procedure di recupero delle somme percepite illecitamente per un totale di circa 100.000 euro. L'indebito accesso a benefici assistenziali affermano dal comando delle fiamme gialle da parte di chi non ne avrebbe titolo aggrava l'iniquità sociale e genera un danno per le casse pubbliche ancora di più nell'attuale quadro economico in tempi di Covid-19. Il premio San Giorgio conferito dal Centro Studi Molisano a una persona che in qualche modo abbia a che fare con il Molise la quale si è particolarmente distinta in uno o più dei diversi campi della conoscenza umana quest'anno è stato conferito all'unanimità a Francesca Colavita ricercatrice e biologa molisana dell'Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani di Roma che isolò insieme al suo team il coronavirus per l'impegno profuso nel campo delle malattie infettive e segnatamente nell'attività di ricerca sul Covid la cerimonia di consegna del premio non sono queste le immagini si svolgerà a gennaio e adesso vi facciamo vedere come la città da dove è partita la diffusione del coronavirus Wuhan in Cina è tornata alla normalità dopo aver fermato la pandemia Enzo Luongo ha raccolto la testimonianza di Lucia Tartaglia molisana che vive proprio a Wuhan sentiamo Questa è Wuhan oggi la città da dove tutto è partito adesso è praticamente tornata alla normalità le immagini che vedete sono state girate da Lucia Tartaglia molisana di Frosolone che da tempo vive nella città cinese a Telemolise racconta delle misure severissime adottate dalle autorità locali nei mesi passati qui praticamente le cose diciamo che sono tornate quasi alla normalità tutto questo grazie al fatto che c'è stata una forte politica di controllo già dall'inizio nel senso che abbiamo fatto una quarantena vera nel senso che eravamo chiusi nel palazzo ma veramente chiusi con la chiave non potevamo uscire assolutamente per fare nulla per fare la spesa eccetera e quindi da qualche mese a questa parte diciamo da maggio ormai più di sei mesi la situazione è nettamente migliorata a Wuhan però le mascherine non sono sparite del tutto e le misure di contrasto alla diffusione del virus attive sono ancora molte compresa un'app come la nostra Immuni ma a differenza dell'Italia in Cina e su tutti i telefoni la gente porta le mascherine c'è sempre il controllo del cellulare quindi abbiamo un'app che è simile all'app Immuni che ti dice i posti in cui sei stato a che ora quando con chi eccetera eccetera e quindi senza quest'app non puoi prendere il treno non puoi girare eccetera eccetera quindi tutti ce l'hanno in secondo luogo a maggio avevano trovato ancora alcuni casi quindi la città il governo centrale ha deciso di fare un test per tutti i cittadini di Wuhan compresi gli stranieri infatti anche io ho fatto il test e quindi la situazione è molto molto migliorata però la cina ovviamente applica un controllo assoluto nel senso che appena trovano un caso che sia sintomatico sintomatico cosa fanno tracciano tutti i contatti e mettono in quarantena forzata tutti o a casa quarantena controllata oppure in ospedale in ospedale soprattutto se si hanno dei sintomi le misure di controllo racconta ancora Lucia da Wuhan sono severissime anche per chi arriva dall'estero tornare in Cina non è facile venire in Cina non è facile perché devi seguire una serie di pratiche burocratiche e inoltre devi fare la quarantena obbligatoria in un hotel scelto dal governo cinese a tue spese ovviamente e quindi dopo quarantena obbligatoria in un hotel devi fare il test almeno due o tre volte e solo allora puoi entrare liberamente nel paese quindi non è che c'è libertà di viaggiare poi un'altra cosa è che nelle città dove ci sono dove sono presenti alcuni casi non si può andare liberamente oppure le persone che vengono da quella città sono controllate nel senso che sono costrette al ritorno a farsi la quarantena a casa di due settimane quarantena ovviamente controllata dal distretto locale a sostampa a molise ordine dei giornalisti hanno scritto al governatore Toma riguardo lo stanziamento ultimo di 800 mila euro per l'editoria locale in questo difficile momento hanno detto i rispettivi presidenti Giuseppe Di Pietro e Vincenzo Cimino un ulteriore sostegno a un comparto delicato per la convivenza democratica è benvenuto e molto utile e per questo il ringraziamento alla giunta nel contempo hanno proseguito sarebbe stato opportuno e utile un confronto sulla materia anche per la completa utilizzazione della somma oggi non fattibile prevedendo ad esempio un prestito alle aziende per l'emersione del lavoro nero e irregolare di qui la disponibilità di assostampa e ordine dei giornalisti a un incontro per mettere a punto eventuali correttivi e integrazioni al provvedimento torniamo in consiglio regionale dove è stata approvata ieri con 10 voti a favore 9 contrari una mozione del PD che prevede la riduzione dei canoni tratturali il governo Toma va sotto a votare con le opposizioni anche l'ex governatore Iorio Pasquale Di Bello ha intervistato la prima firmataria della mozione la capogruppo del partito democratico Micaela Fanelli un successo per le opposizioni in consiglio regionale un successo al quale anche un pezzo di maggioranza di centrodestra si è allineato quello della riduzione dei canoni tratturali una battaglia che viene da lontano Sì da quest'estate ricorderete c'era stata una mazzata in particolare per i pastori gli imprenditori agricoli ma anche chi ha case parzialmente su il demanio tratturale con un aumento davvero esagerato dei canoni con una forte protesta di chi evidentemente aveva visto aumentare questo esborso che noi avevamo raccolto anche perché il momento non è quello che oggi vede una regione vessare ulteriormente sui cittadini sulle imprese in un momento di pandemia quando tutto è complicato con una mano si elargiscono fondi e con l'altra poi si aumentano le tasse sulle aziende evidentemente c'è qualcosa che non va oggi il consiglio regionale è stato attento a questa esigenza chiede alla giunta di revocare la delidebera del 2019 e di ridurre completamente l'aumento o farne uno piccolo piccolo questo è importante lo diciamo perché è una grande sensibilità del consiglio che aiuta soprattutto fasce di popolazione e in questo momento che hanno i problemi per chiudere il mese con quel poco che oggi molte attività hanno bene quindi una mozione che però ha anche un significato politico sì assolutamente Toma continua a non avere in mano la leadership la maggioranza e la giunta oggi ancora una volta è andata sotto è chiaro che c'è sempre un rumore di fondo con questo dissenso che non è costruito su una condivisione né con gli stessi membri di maggioranza né con il territorio e il partenariato a fronte di qualche firma formale di partenariato si registra che imprese e datori di lavoro ormai hanno preso le distanze su questo provvedimento a dire la verità c'era stata una concertazione formale davvero secondo me che non rincorreva le esigenze reali del territorio ma oggi abbiamo visto come la porta dal partenariato due volte è stata chiusa in faccia a Toma e si dice non bussare più al campanello talmente tanto se è lontano dalla concertazione reale per esempio il nuovo bando per gli aiuti alle imprese su quello non si è avuta nessuna forma di confronto viceversa poi molto spesso vengono chiamati a dire sì alle sedi formali come il comitato di sorveglianza ecco si è rotto fortemente quel legame di afflato se mai ci fosse stato che doveva regolare il rapporto tra esecutivo e forze sociali e in aula è passato anche un ordine del giorno presentato e illustrato dalla consigliera Aida Romagnolo per l'istituzione di un albo regionale delle manifestazioni storiche culturali folcloristiche dei presepi del Molise poiché queste manifestazioni che si svolgono sul territorio regionale rappresentano parte della nostra storia e della nostra identità a detto Romagnolo si impegnano Toma e l'assessore Cotugno a istituire un albo regionale per tutelare e promuovere le nostre tradizioni il nostro territorio la nostra storia e identità Un nuovo vicario per la questura di Isernia si è insediata Rosa De Gregorio il dirigente ha partecipato alla presentazione del calendario 2021 della Polizia di Stato sentiamo Barbara Fino si è insediato alla questura di Isernia il primo dirigente il vicario Rosa De Gregorio che ha preso il posto della dottoressa Carmela Lucà la dottoressa De Gregorio proviene dalla città di Palermo dove è diretto prima la Polizia di Frontiera Aerea poi la sezione di Polizia Stradale e da febbraio 2020 l'Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura il nuovo vicario era presente all'incontro in Questura per presentare il calendario della Polizia di Stato 2021 il cui ricavato sarà devoluto all'Unicef a sostegno dei ragazzi più colpiti dall'emergenza coronavirus nei 12 scatti scelti per rappresentare i mesi del nuovo anno ci sono le parole chiave della legge del primo aprile 1981 che ha ridisegnato l'amministrazione della pubblica sicurezza e rifondato la Polizia di Stato tra queste in particolare identità nei valori costituzionali per la tutela delle libertà e dei diritti prossimità al servizio del Paese dei cittadini ordine e soccorso pubblico autorità di pubblica sicurezza coordinamento e formazione e donne per la prima volta in una forza armata all'incontro hanno partecipato il capo di gabinetto Mariazzo Colillo e il questore Luciano Soricelli che ha sottolineato come esista un rapporto collaborativo con le forze di polizia un senso civico bilaterale espresso proprio attraverso le immagini del calendario c'è la vicinanza nei confronti della comunità dove si va a operare questo è stato ribadito più volte dal nostro capo della polizia e nella questura di Sernia in questa comunità questo principio viene portato avanti quotidianamente la nostra è un'attività ovviamente di prevenzione di repressione quando c'è bisogno ma fondamentalmente è quello di vicinanza ai bisogni delle persone e noi lo stiamo facendo quotidianamente soprattutto in questo periodo particolare anche quest'anno con il suo panettone artigianale il boianese Stefano Priolo titolare dell'azienda Casa Priolo proprio a Boiano si conferma nel gota delle migliori 13 attività nazionali del settore il prestigioso riconoscimento è arrivato da una selezione effettuata negli ultimi giorni dalla prestigiosa e specializzata rivista enogastronomica del Gambero Rosso dopo una rigida selezione tra i numerosissimi partecipanti che hanno inviato il loro prodotto natalizio ne sono rimasti in gara solo 36 tutti i nomi prestigiosi della pasticceria italiana dai quali poi è stata stilata la classifica dei 13 campioni in assoluto e il panettone di Stefano Priolo si è posizionato al decimo posto questa era l'ultima notizia del nostro TG delle 14 dopo la sigla le previsioni meteo poi la linea come sempre ai colleghi dello sport noi ci rivediamo per il TG Flash intorno alle 15 buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.